Andiamo tutti alla partenza del Giro d'Italia e ognuno col proprio manifesto a poter dire alla stampa nazionale che questa città non è una città normale. Disoccupati, cittadini in difficoltà o con diritti negati, tutti con il proprio cartello, ordinatamente dietro le transenne al Giro d'Italia. L'invito di Renato Accorinti, quando nel 2011 passava da Messina alla Carovana Rosa, ma lui non era sindaco. L'appello era rivolto a tutti i messinesi in sofferenza, sottolineava il problema delle dismissioni ferroviarie e si contestava anche il fatto che le strade venissero asfaltate solo per occasioni importanti, come il Giro d'Italia. Allora che vengono quelli dell'ATM, dell'Auto 3, delle ferrovie che stanno dismettendo, delle navi, di tutto quello che manca, che vuole dire manca tutto, altro che. E allora è il minimo di quello che dobbiamo fare. Veniamo e facciamo sentire alla stampa nazionale che questa città purtroppo non è normale, che vengono asfaltate le strade solamente perché passa il Giro d'Italia o perché viene un Papa o un Presidente della Repubblica. Vedete un po' come siamo ridotti. E allora tutte le rivendicazioni di tutti i diritti, tutti in piazza, ai bordi del transenne, per far sentire la nostra voce alla stampa nazionale. Non sappiamo se il 10 maggio il sindaco si presenterà dietro le transenne con cartelli e persone al seguito.